ciao amici i cambi di stagione sono un ottimo periodo per depurare il fegato lo sapevate io ne avrei bisogno tutto l'anno per questo è importante fare prevenzione nel mio sistema di salute naturale lo spiego sempre le buone abitudini aiutano a mantenerci in salute tutti i giorni poi in certi periodi possiamo aiutare il corpo con dei programmi specifici come quelli detox fare detox regolarmente è molto salutare e aiuta a prevenire e ridurre i sintomi di vari disturbi vediamo allora insieme 13 rimedi ultra efficaci per depurare il fegato se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine c'è un regalino per voi 1 acqua e limone bere un bicchiere di acqua calda con mezzo limone al mattino a digiuno è un metodo naturale per depurare il fegato intestino e regolare il ph interno 2 curcuma si prepara una bevanda con due cucchiaini di curcuma in polvere un cucchiaino di zenzero un pizzico di pepe nero 100 millilitri di latte di cocco e mezzo bicchiere di acqua calda questa bevanda si può assumere giornalmente per almeno due settimane la curcuma stimola la funzionalità epatica e aiuta a ridurre il colesterolo cattivo ldl 3 carciofo il carciofo ha proprietà diuretiche aiuta a depurare i dotti epatici e favorisce la produzione della bile è il rimedio più noto per la depurazione del fegato poiché contiene cinarina è consigliabile assumerlo in capsule o in tintura madre diluita in acqua o succo 4 cardo mariano il cardo mariano ha la capacità di stimolare le funzioni epatiche e di ridurre l'infiammazione si consiglia anche a chi fa consumo eccessivo di alcol o fuma regolarmente si può assumere la tintura gli estratti secchi o la tisana da prendere due volte al giorno stimolando la bile può essere molto utile alla rimozione naturale dei calcoli 5 tarassaco è una pianta officinale dalle proprietà diuretiche ottimo in caso di ritenzione idrica è particolarmente utile ad espellere il colesterolo in eccesso dal fegato si consiglia di assumerlo in forma graduale perché un rimedio molto potente si può assumere in tintura madre compresse o tisana 6 rosmarino il gemmo derivato del rosmarino è particolarmente utile a depurare il fegato si può assumere prima dei pasti con un po d'acqua anche per controllare l'appetito 7 erba di grano si trova in polvere oppure fresca ed è un forte depurativo per il fegato contiene vitamine minerali e clorofilla che aiutano l'organismo a disintossicarsi si può aggiungere un cucchiaio a frullati ed estratti si assume di solito al mattino 8 aloe il succo di aloe è una delle bevande più consigliate per depurare fegato e intestino lenisce la mucosa dello stomaco e aiuta l'organismo a liberarsi dalle tossine se ne prende un bicchierino prima dei pasti per almeno due mesi 9 succo di mela la mela contiene pectina e acido malico particolarmente benefici per il fegato tra l'altro la mela è uno dei pochi cibi dalle proprietà chelanti cioè in grado di depurare dai metalli pesanti il succo di mela si può usare anche da solo assumendo due bicchieri di succo puro al di per un mese 10 cumino a proprietà digestive depurative stimolanti per il fegato e la bile si può usare in cucina per dare un tocco alle pietanze o come tisana a fine pasto 11 cicoria stimola la digestione e ha una spiccata azione drenante sul fegato è ricca di vitamine e sali minerali contiene inulina che protegge dal cancro al colon si può mangiare in insalata assumerla come bevanda calda al posto del caffè agisce sul colesterolo e sulla glicemia aiuta lo stomaco in caso di gastrite 12 zenzero serve a regolarizzare i livelli di colesterolo e a pulire le scorie presenti nel fegato per preparare la tisana allo zenzero servono una punta di cucchiaio di polvere di zenzero o due cubetti di zenzero fresco fate bollire l'acqua con lo zenzero per 10 minuti dopo poco filtrate e bevete 13 carote anche le carote sono un ottimo depurativo epatico si possono consumare cotte o crude in combinazione con spezie o altre verdure per sfruttare al massimo le loro proprietà si può bere un estratto di carote mantenere in salute il fegato è molto importante depurandolo regolarmente bisognerebbe evitare zuccheri raffinati grassi saturi alcolici cibi industriali meglio moderare o eliminare il fumo fare attenzione a ormoni sintetici e ai farmaci bene amici oggi abbiamo visto 13 sostanze naturali per depurare il fegato ed ecco il regalino di oggi il report sui 13 migliori rimedi alimenti per il detox del fegato che potete scaricare gratis dal link in descrizione qui sotto vivi consapevole e vivi meglio con il sistema di salute naturale di simona vignali